Audis, secondo me, ha fatto bene a scegliere l'idea di approfondire le criticità. Noi siamo consapevoli di essere un paese complesso, complicato, grande, per dimensione. Siamo consapevoli che la rigenerazione urbana è necessaria perché abbiamo un territorio a forte antropizzazione e siamo consapevoli che negli ultimi anni se ne è fatta poca, pochissima e in maniera del tutto casuale. Quindi è arrivato il momento di avere il coraggio di prendere il toro per le corna e analizzare il perché non si fa. Questo comporta la necessità di analizzare e indagare due elementi. Il primo è la domanda che cosa il cittadino, il futuro abitante di questi potenziali luoghi vuole. Perché indagando sulla domanda riusciamo a comprendere meglio quale può essere l'offerta. Il secondo è l'idea di mettere in gioco gli strumenti che abbiamo, compreso la customizzazione, la forte customizzazione perché noi dobbiamo rigenerare luoghi in tutte le città d'Italia, non solo Milano e Roma ma anche nelle piccole e medie città di cui è fatta l'Italia e quindi dalla customizzazione passa il futuro della rigenerazione urbana. Audis per rinnovarsi deve fare più cose, non soltanto essere orgogliosa della propria storia, di quello che ha fatto, ma deve reinventarsi su più fronti, deve ripartire dalla sua storia. Questo ovviamente sì, è una storia importante di incontro tra il pubblico e il privato, ma deve soprattutto rilanciarsi come il soggetto che si occupa di quello storytelling sulle buone pratiche e dello storytelling sul nuovo modo di pensare la rigenerazione urbana, a prescindere anche dall'incontro tra pubblico e privato. Questo ha bisogno questo Paese e questo deve fare Audis. Noi sappiamo che la rigenerazione urbana deve essere fatta prima di tutto negli aree dismesse di questo Paese, così come da storia di Audis, ma non solo quello. La rigenerazione urbana è necessaria anche su quegli edifici che hanno terminato la propria esistenza, la propria vita come ciclo di vita dell'edificio stesso, ma che rimangono ancora ancorati all'uso per cui sono nati e per cui sono stati destinati. Perché la demolizione e ricostruzione ha un senso compiuto anche per edifici che non hanno perso la propria destinazione. Audis dovrà occuparsi di tutto questo facendo uno storytelling messo a disposizione del Paese.